E' stato salvato da una pattuglia dei carabinieri un trentenne che sabato mattina ha cercato di darsi fuoco dopo la separazione con la moglie. E' successo in via Alessandro dal Borro ad Arezzo dove l'uomo di origine romena ma residente a Campiglia Marittima in provincia di Livorno si era cosparso i vestiti con una tannica di benzina e con l'accendino si stava dando fuoco. I militari vista la situazione sono intervenuti con l'estintore dell'auto di servizio e hanno spento le prime fiamme che avevano già attaccato i suoi vestiti. Subito dopo i militari hanno richiesto l'intervento del 118 per accompagnare il trentenne all'ospedale San Donato dove è stato soccorso per le lievi ustioni riportate. Il romen avrebbe spiegato di non riuscire ad accettare la separazione dalla giovane moglie che nel frattempo si era trasferita ad Arezzo per motivi di lavoro.